Qua vediamo un'ape, un'ape poverina come ne ho salvate molte in tutti questi anni, che si direbbe che è arrivata al volgere della sua vita, e tremebonda, tremebonda, esile, è già da più di mezz'ora che la guardo, adesso la filmo, poverina. Come trema, ha freddo, capito? Con l'inizio della stagione fredda le api muoiono. Si ritorce, si contorce. Adesso cercherò di dargli del miele. Adesso cerchiamo di farci da mangiare, di farci mangiare, il miele, sempre che lo veda. Ape, ape, guarda, c'ho del miele, c'ho del miele, che la devo riprendere e gli devo dare da mangiare. Gli ha comodo il miele, se ne è volata via, e non ha mangiato il miele. Miele sprecato. Ape cattiva. Non ha voluto prendere l'aperitivo. Ah ah ah, l'ape non ha preso l'aperitivo.